Ben ritrovati amici rossoneri, oggi vi ho rotto le scatole abbastanza e direte ci siamo ancora ben ritrovati su Milanello, la casa del Milan su YouTube, vi ricordo come sempre, oggi però era il mio giorno libero vi ricordo come sempre di iscrivervi in questa zona, mi raccomando fatelo numerosissimi e lasciate tanti like qui sotto ho ancora il segno della zanzara del video precedente in cui vi ho parlato di un nome nuovo per l'attacco il nome nuovo è quello di Colomuani, 22 anni del Nant, se non l'avete ancora visto nel precedente video dell'ultimo ramercato potete insomma venire a conoscere tutte le caratteristiche di questo giocatore che non è l'unico nome sulla lista di Massara, Madini e Moncada perché questo è un profilo di Moncada ma che è in una stretta cerchia appunto di candidature per vestire la male del Milan quella del numero, non lo so, diciamo dell'alternativa a Ibrahimovic e Giroud, l'alternativa giovane che come prospettiva se ci pensate è quella di tra un anno vedere Ibra probabilmente ritirarsi sicuramente ritirarsi e di avere in squadra Giroud che comunque avrà, andrà poi per i 36 anni quindi è un'operazione che deve essere low cost e questo profilo personalmente intriga ma ovviamente quello che conta è il parere della dirigenza ci sono tante news delle ultime ore, poi magari domani faremo un focus su tutte le candidature per l'attacco vista la situazione di Caio e George andiamo intanto sull'aggiornamento trequartista che poi è un ruolo fondamentale nonostante l'esplosione di Brian Diaz tra la parte finale della scorsa stagione e questo precampionato anche se lascia un po' il tempo che trova ma soprattutto l'investitura della maglia numero 10 intanto andiamo su il discorso Sabitzer che non tramonta e dalla Germania oggi arrivano conferme sulla quasi certezza che il giocatore andrà via ci sono stati diversi club che hanno bussato alle porte dell'Ipsia che ormai si era assegnato all'idea di perdere il giocatore che non vuole rinnovare il suo contratto e che scade tra un anno la richiesta è di 15-18 milioni di euro quindi decisamente abbordabile a maggior ragione se si va a cedere qualche giocatore qualche esubero anche se ci potrebbero essere cessioni più o meno dolorose ma poi ne parleremo in un video il problema è che c'è concorrenza soprattutto in Germania la sua agenzia lavora molto appunto nel mercato tedesco e quindi potrebbe magari volerlo lasciare lì dall'altra parte l'ingaggio di 4 milioni e mezzo deve essere rivisto a rialzo c'è però il decreto crescita quindi tutto sommato potrebbe essere abbordabile personalmente mantengo i piedi per terra anche se come profilo è quello che forse più piace a Mr. Pioli perché abbina molto bene le due fasi in questo caso però c'è concorrenza importante quindi andiamoci cauti ma il discorso è aperto e c'è un'apertura importante dell'Ips è la cessione su 15-18 milioni di euro quindi cifre del tutto abbordabili del tutto abbordabili passiamo da Brandt che è un nome che è uscito negli ultimi giorni un'idea però vi ho detto anche che difficilmente il Borussia lo farà partire per un prestito oneroso il Milan pensa al prestito oneroso a 5 milioni e un diritto di riscatto pur essendo un po' ai margini però l'idea oggi è di provare a monetizzare ma a fine mercato ci possono essere magari giocatori appunto che si spostano in prestito uno su tutti del quale vi parlo tra poco su Brandt registriamo la sua presa di posizione nella giornata di oggi dice mi fanno piacere l'interesse di grandi club appunto si è parlato di Milan però credo che giocherò ancora con il Borussia Dortmund la prossima stagione forse l'idea di spostarsi in prestito che è l'unica strada percorribile oggi non lo sarete più di tanto lui tedesco preferirebbe forse rimanere lì e se questo era il suo pensiero corretto e non soltanto una frase di facciata bisogna appunto sfilarsi e non considerare più quella pratica che era comunque sul tavolo sulla scrivania di Maldini Massara e Moncada alle 3M non come prima scelta tra le prime scelte c'è sicuramente invece Nikola Vlasic che vuole il Milan il Milan vuole lui anche qui il problema è che in questa fase non avendo ancora incassato dei soldi veri il Milan non può andare oltre al prestito con diritto attenzione vi avevamo raccontato di un inserimento dello Zenit San Pietroburgo che sembra intenzionato a provare a prendere questo giocatore a presentare un'offerta concreta al CSKA che vuole avere la certezza di monetizzare di incassare il Milan invece ha detto prestito oneroso più diritto no se mai l'obbligo il giocatore al momento in questo momento sta ancora aspettando il Milan e quindi dice no a tutte le proposte però non può aspettare a vita è chiaro che se ti chiama lo Zenit che è un club importante e ti offre più soldi rispetto a quelli che prendi parliamo sempre dello stesso discorso cioè non è un milanista che vuole per forza di cose soltanto al Milan a oggi vuole il Milan però se si aspetta troppo se si tira troppo la corda è un altro giocatore che probabilmente può fare scelte diverse vi facevo lo stesso ragionamento ad esempio per Caio George oggi ha un accordo con il Milan ma se non ci sbrighiamo possono arrivare altre squadre e lui li può accettare non essendo tifoso del Milan anche se ormai di Sifosi e Milan giocatori ce ne sono pochi che lo dimostrano può andare altrove e così appunto ha fatto accordandosi anche con la Juventus su Vlasic io ritengo sia sempre uno dei preferiti se non il preferito con un altro giocatore del quale adesso vi parlo però bisogna bisogna andare un po' più veloci bisogna accelerare con le cessioni perché altrimenti via uno via l'altro via l'altro ancora e si fa molta molta fatica sul discorso trequartista disco vi avevo detto che la richiesta di 18 milioni a quella cifra al Milan non arriva visto che c'è un ingaggio pesante sullo sfondo ma neanche troppo sullo sfondo forse in cima alla lista dei desideri c'è sempre Ziyech che potrebbe essere e l'esterno di destra abbinabile magari anche a Brian Diaz se fa il trequartista o il trequartista stesso quando magari Brian Diaz non viene preferito e sicuramente troverà più spazio ma sulla carta al Milan vuole mettere un trequartista titolare Ziyech vi avevo raccontato che si era inserito ha provato un mese e mezzo fa il Napoli a contattare il suo agente che aveva detto sostanzialmente no grazie abbiamo già un accordo con il Milan accordo che c'è ma manca quello con il Chelsea e qui bisogna purtroppo aspettare agosto inoltrato perché in questo caso il Milan non lo può acquistare a titolo definitivo e può prenderlo soltanto con la formula del prestito ballerebbe tra esterno di destra e trequartista appunto perché può fare entrambi i ruoli anche se lui è più un esterno di destra naturale là dove comunque abbiamo bisogno di un giocatore che possa far fare il stato di qualità in termini realizzativi di gol di assist di impredibilità di cambio passo di salto uomo eccetera eccetera quindi in questo momento oggi il Borsino vede decisamente in calo le quotazioni di Brandt che non era mai stato in pole position Vlasic e Ziyech su tutti ma attenzione a Vlasic perché inizia un po' a oscillare e Sabitzer sempre vivo ma complicato per i motivi che vi ho elencato concorrenza ed ingaggio sicuramente alto in calo invece Isco se il Real chiede quei soldi non si può fare assolutamente vediamo quali sono le evoluzioni questo è l'aggiornamento sul trequartista vi rimando al video precedente in cui vi spiego tutto su Colomuani nome nuovo per l'attacco del Milan ci vediamo poi prestissimo ovviamente sempre qui sintonizzati su Milanello oggi abbiamo fatto tanti video ragazzi spero possiate aver apprezzato iscrivetevi qui numerosissimi per non perdere i prossimi video e attivate la campanella perché è importante e lasciate tanti like qui sotto voglio il vostro preferito non voglio tanti commenti lunghi voglio un nome il vostro preferito per a trequarti un nome solo qui sotto leggo i commenti e poi mi faccio un'idea ancora più concreta su cosa vuole il popolo milanista di Milanello iscrivetevi qui mi raccomando ciao